Sono a 29 e sto morendo. Cos'è sto rumore? Io non vedo niente. Vabbè, io devo assolutamente correre il più possibile veloce verso la fiume. Di qua non ci va un cazzo, eh? Di qua non ci va niente. Merda. Bisogna fare il gioco. Dai lo so posto. Ma se il livello comunque è fighissimo. È una grandissima idea. Cosa? È una grandissima idea a fare un livello così, mi fa cacca sotto. Ness ma sei sicuro o no ti devi? Eh, ho la vita che mi sta scendendo, quindi devo per forza andare avanti e trovare un medikit. Magari è lì, la safe house. Io non ne posso da quello mio. Oh porco Giuda. No, un'altra witch. Vabbè, non te l'ammazziamo, dai. Morta. Mi c'ha sbagliato qua. Ti posso da quello mio, Ness, se vuoi. Ma sì, sto morendo, quindi. Se vuoi venire qua. Va bene qui? Dove sei? No, ma c'era un boomer di merda. No! Ha fottuto. Ha caccia! Scendono dai fottuti tetti. Perché scendono dal tetto? Dove cazzo erano? Io gli ho rimasto solo la catana. Stata, ma stai sicuro. Salvami. Ne ho bisogno, sono a 5. Mi è scherzo, ma c'è tutto lo sborro del boomer addosso. Sì, schifo. Sto sborro del boomer addosso. Qua c'è un medikit. Dove? Lo sono cucco io. Ma in chiama, sempre tu. Ma che cavolo? Ho curato n'escavo lì. Hai scinto a livello. A livello. Chiudo? Siamo tutti? Vado. Sulla, spada. Tu scendi l'abbiamo lasciata fuori. Vabbè, chissi. Prende un ottimo un po' di cioccolato.